Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare i motivi della scelta di Firefox alla cartella numero 12 del kit IPC DSA portabile come strumento per la compensazione del disturbo specifico di apprendimento. Una volta scaricato il kit da internet si troverà la cartella 12, qui c'è il programma, doppio clic che si installa, le istruzioni per l'uso scritte e il video che sto facendo per andare poi dopo ad utilizzarlo. Una volta installato Firefox, quando si lancia bisogna allestirlo perché sia lo strumento che ci serve. E noi lo allestiremo come strumento per i download dei video didattici e per la navigazione protetta. Firefox ci permette, attraverso uno suo strumento che si chiama YouTube Audio Video Downloader, di scaricare qualsiasi video da YouTube e anche se vogliamo scaricare solo il video o solo l'audio. Quindi anche se dobbiamo scaricare dei pezzi musicali didattici o dei testi di video lezioni di cui non abbiamo l'interesse sul video. Allora, basta scrivere a YouTube Video e Audio Downloader su Motore di Ricerca e poi si apre questa pagina. Cliccando Add to Firefox noi installeremo con un clic Audio YouTube Audio Video Downloader, che metterà una piccola iconcina qui in alto a destra. Questa iconcina ci permette alcune operazioni che adesso andremo a vedere. Allora, ho fatto una ricerca di un video di pochi minuti, di due minuti, di Cristoforo Colombo perché, supponiamo, lo voglio inserire in una mappa o lo voglio ascoltare perché mi dice qualcosa di più sulle caravelle. E senza neanche farlo partire, io posso cliccare su YouTube Audio Video Downloader, click Download e lui me lo scarica. Se però ho delle esigenze di qualità o particolari formati, cliccando su questo settore posso scegliere i formati, addirittura me lo posso mettere sul telefonino per ascoltarlo, i formati di qualità e di formato. Non solo, ma se io voglio, come dicevo prima, scaricare da questo collegamento in formato video, potrò scegliere sia il tipo di formato, vedete, e qui non scarica l'audio e c'è solo il video. E' anche interessante questo, nel caso delle lezioni di matematica, ad esempio, dove uno parla e vede quello che succede. Oppure, qua, in questo caso, scelgo Web only, Audio only e scaricherò solo l'audio e non il video. Adesso vi faccio vedere, per non perdere tempo, l'ho già fatto, vi farò vedere il risultato dei due download. Ovviamente, per ascoltare e vedere solo il pezzo che mi interessa, dovrò usare VLC, che mi permette di tagliare i video. Questo è un video di due minuti, ma se fosse un'ora e mi interessa da un certo punto a un altro, con VLC è banale poterlo fare. Adesso vediamo cosa ha fatto. Ecco, questo è il video che ho appena scaricato. Che ho appena scaricato adesso. E questo è l'audio, adesso vi faccio sentire. Questo è l'audio. Vedete? Qui c'è solo l'audio. E non c'è il video. Quindi se fosse un concerto, un pezzo musicale, potrei vedere, ascoltare solo quello. E invece qui c'è sia l'audio che il video. Ecco, non è la guida di VLC per spiegare come si ritagliano i pezzi o come si interviene sul video. Però VLC è molto importante e interessante per tutte le funzioni didattiche che io posso mettere in campo nell'intervento su un video che mi interessa studiare. Adesso vediamo come Firefox lo organizzo nelle opzioni per la privacy. Eccolo qua. Comunica ai siti visitati la volontà di non essere tracciato. Quindi mettendo la spunta su questo comando io non sarò tracciato e non avrò pubblicità di ritorno o apertura di finestre che non mi interessano. Nelle funzioni generali, come tutti i browser, si indica la pagina di partenza e il luogo dove andranno fatti i download. Ecco, quindi un pochino allestito con un downloader e con il tracciamento, io ne ho fatto uno strumento per la compensazione del disturbo specifico di apprendimento. Tenendo presente che i video didattici sono molto molto importanti per aiutare i ragazzini nello studio didattico. Se noi scriviamo Algebra, guardate video lezioni di Algebra che mi posso trovare senza molta fatica. E se ne ristringo la ricerca posso trovare sicuramente quello che mi interessa a casa senza bisogno di una lezione privata ma costruendomi una lezione privata. Quindi per le guide del kit PC DSA e Firefox, sono Francesco Fusillo, vi ringrazio per l'attenzione e speriamo di essere stati abbastanza chiari.